Io direi di iniziare. So che il Presidente Acquarola aveva piacere di partecipare, vista anche l'importanza dei provvedimenti che presentiamo. Se arriva a delle situazioni in atto, se arriva ci farà e mi farà molto piacere e deduco che arriverà, magari farà un saluto finale o qualcosa di questo genere. Non mi piace far aspettare oltre le persone che pazientemente e puntualmente sono intervenute. Che ringrazio. Quello che presentiamo oggi, io lo ritengo un atto non tanto solo importante, ma fondamentale in questo momento di crisi. Perché vedete, la questione del lavoro è sempre tra le questioni prioritarie che seguiamo nelle nostre vite e ovviamente in qualità di assessore al lavoro con tutti i miei dirigenti. Oltretutto c'è il Capo di Dipartimento, scusate, ne ho presentati i terzoni qui con noi, c'è la dottoressa Maestri che segue tutte le politiche attive e Rocchi Massimo che segue invece tutti i percorsi di formazione professionale. Dicevo, il lavoro tendenzialmente è uno sempre dei temi più importanti che si toccano nel fare amministrazione. Noi in questo momento abbiamo, al di là dei soliti problemi sempre decantati, ricerche di lavoro, eccetera, una situazione, io la definisco strana, nel senso che tante aziende che lamentano la carenza di personale che non riescono appunto a trovare, a reperire, nello stesso momento tante persone iscritte e ai centri per l'impiego che comunque dicono di essere in cerca di lavoro e non riescono a essere collocati. Evidentemente cosa succede? Evidentemente, io deduco, c'è una modalità di lavoro e un'evoluzione nel mondo del lavoro che difficilmente riesce, diciamo, a far incrociare la domanda con l'offerta. Come dire, magari ad una vita serve una tipologia di attività che tra i tanti disoccupati non si riesce a trovare in quel momento. Probabilmente in parte anche questa evoluzione, cambio del mondo del lavoro. Quindi occorre migliorare questo, diciamo, questo incrocio, che lo chiamiamo, no? Questo confronto tra queste due realtà, la ricerca e la richiesta di lavoro. Il programma GOL, Garanzia Occupazionale del Lavoro, che noi oggi qui presentiamo, è un'iniziativa che viene portata avanti da tutte le regioni d'Italia, su iniziativa del Ministero del Lavoro, e che punta proprio a questo, punta a porre in contatto tra chi cerca lavoro e chi ne ha bisogno come imprese e soprattutto prepara le persone ad poter entrare in maniera pronta nel mondo del lavoro. Questo voi direte è la normalità delle cose, lo si fa attraverso i centri per l'impiego regolarmente, sì. Questa però è un'iniziativa, diciamo così, particolare, eccezionale e anche fortemente sostenuta finanziariamente tramite appunto i fondi GOL. Noi parliamo di 21 milioni, ecco il Presidente, bene, bene, bene. Il Presidente aveva appena iniziato, quindi sei arrivato al momento giusto, avevo già detto che saresti intervenuto e ci fa molto piacere. Tu riesci un attimo a rimanere oppure per fare un saluto prima? Guarda, io continuo da dove avevo iniziato, stavo descrivendo l'iniziativa. Benissimo, quindi proseguiamo, ringraziamo, sono molto contento Presidente della tua presenza. Del resto dicevo che è una delle attività più importanti che stiamo mettendo in campo in questo periodo per sostenere le persone in cerca di lavoro e ho appena detto che c'è però questo strano deficit tra chi ha bisogno di personale e non lo trova e chi è alla ricerca e non riesce ad essere inserito. Ovviamente c'è bisogno di migliorare l'incontro tra offerta e ricerca e soprattutto anche la preparazione di chi è in cerca di lavoro per poter rispondere all'esigenza, diciamo così, delle imprese che sono indubbiamente in evoluzione. Il progetto Goal quindi prevede un finanziamento di 21 milioni di euro. Otto di questi sono a pannaggio del settore sociale, quindi riguardano un altro settore, non so bene che tipo di iniziativa metteranno in campo. Noi invece di questi 21 milioni metteremo in campo 3 milioni e 200 mila euro per un bando finalizzato alle politiche attive, cioè finalizzato a ricercare le agenzie interinali, anche private quindi, che dovranno insieme a noi, insieme ai nostri centri di olimpiego, trovare lavoro alle persone e 10 milioni e 200 mila euro che sono invece finalizzate a enti accreditati dalla regione che devono formare queste persone per poter essere poi impiegate e inserite nel mondo del lavoro. Quindi noi fruiamo di cifre importanti sui circa 15 milioni, 14 milioni di euro. L'obiettivo qual è per le marche? Perché ripeto questa è un'iniziativa che va in tutte le regioni d'Italia. L'iniziativa per le marche è di inserire entro quest'anno, veramente poi si avvarrà anche del prossimo anno su due annualità, 14 mila 800 persone. Questo è, diciamo così, l'obiettivo. Quindi 14 mila 800 persone attualmente disoccupate, che siano per settore di reddito di cittadinanza, di NASPI o di nulla, nel senso semplicemente disoccupati, non ha importanza, purché siano iscritti ai centri per l'impiego, si iscrivano ai centri per l'impiego. Cosa succede quindi? I centri per l'impiego prenderanno in carico queste persone, ne verificheranno l'esperienza, la preparazione e anche la predisposizione a che tipo di attività vorranno intraprendere. Lì, se sono persone già pronte ad affrontare un percorso lavorativo, le inseriranno attraverso le agenzie del lavoro, con noi convenzionate, verso appunto la ricerca direttamente del lavoro, come dicevo prima. Se invece non sono formate per quel tipo di attività che intendono intraprendere, saranno sempre da noi inserite nei percorsi formativi tramite gli enti accreditati che noi, diciamo, individueremo. Per fare questo, noi aspetteremo due bandi, che usciranno poi magari i miei dirigenti, saranno più precisi nella tempistica, due bandi, finalizzato, uno appunto alla ricerca di soggetti da attivare le politiche attive, quindi l'inserimento diretto al lavoro, e uno invece riservato alle agenzie accreditate che vorranno invece fare formazione. Il primo bando, come ripeto, per 3 milioni e 450 mila euro, il secondo bando per 10 milioni e 100 mila euro, come dicevo prima, poco fa. Quindi dopo lo screening fatti dai centri per l'impiego, i cosiddetti cercatori di lavoro, chiamiamoli così, l'obiettivo di 14 mila e 800, a secondo della loro esperienza, verranno indirizzati alle agenzie, se ritenuti già preparati, a quel tipo di indirizzo, oppure ai percorsi formativi, secondo anche la loro preparazione. Se hanno una preparazione molto approfondita, avranno un percorso formativo più lungo. Se hanno una preparazione già in parte espletata, avranno un percorso più breve, questo a secondo appunto della specificità dei soggetti presi uno alla volta. Una delle grosse novità rispetto a questo percorso, al di là quindi del proprio l'azione mirata verso la singola persona, finalizzato alla soluzione del suo problema, quindi a trovare effettivamente il lavoro, è quella della condizionalità. Cosa vuol dire condizionalità? Qui noi assessori al lavoro delle regioni ci siamo molto battuti verso il ministero. Cioè a volte succede che chi è in disoccupazione, in naspio, a reddito di cittadinanza, ha più chiamate e non risponde, diciamo così, dicendo magari che non è il lavoro adatto, che non termina il percorso formativo, che non arriva alla fine del percorso che già gli viene indicato. Ecco, in questo caso c'è una condizionalità, cioè se questo percorso non viene portato a termine per negligenza, perché viene interrotto prima, perché non c'è volontà, diciamo, da parte del percettore, potrebbe perdere il sussidio. Ecco, questo io credo che sia molto, molto importante in questo caso, perché spinge effettivamente le persone a ricollocarsi. Perché si è sempre detto, ad esempio, che il reddito di cittadinanza è un modo per trovare lavoro, non sempre magari fino ad oggi è stato utilizzato per trovare lavoro, ma anzi a volte forse è stato il contrario, è stato il modo per non accedere al lavoro, altrimenti si sarebbe perso il reddito. Adesso non voglio estremizzare questa cosa, non voglio dire che sia un problema principale, però sicuramente è una situazione che va in qualche modo affrontata. Con questa specificità viene affrontata, quindi noi ci prendiamo in carico il disoccupato fino a portarlo nel luogo di lavoro, secondo il percorso più appropriato per lui, finanziato tutto dai fondi gold, dalla Regione Marche e quindi dallo Stato, senza pesare sulla diretta persona. Però il percorso deve essere portato avanti, splettato e poi alla fine concluso, per poter fruire poi di tutti i benefici. Quindi ecco, è una situazione che va avanti da diversi mesi, questa cosa ci è stata proposta a inizio anno, l'abbiamo concertata per mesi come assessore al lavoro insieme al Ministro delle Politiche del Lavoro Orlando. Come Regione Marche ci siamo che fatti valere sulla ripartizione dei fondi in maniera anche molto forte, quindi abbiamo ottenuto anche un buon risultato, adesso iniziamo a metterli in campo. Quindi io vi ho illustrato, credo, abbastanza puntualmente tutte le questioni, non so il tempo che può rimanere o meno il Presidente, se vuole già dare un contributo immediato, oppure magari sentire prima i dirigenti. Dipende dal tempo che hai, Francesco, e come sei. Chi prende la parola? Terzoni? Prego. Sì, buongiorno. Allora, aggiungo solo un paio di cose. La prima, un altro elemento importante, anche innovativo del programma Goal rispetto al passato, è quella del coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego pubblici, anche delle agenzie per il lavoro private accreditate da Regione Marche. Tra l'altro, la Giunta recentemente ha rinnovato, revisionato il sistema di accreditamento delle agenzie per il lavoro, ampliando anche la possibilità di altri soggetti di accreditarsi e quindi operare nel nostro territorio. Questo perché? Proprio perché i numeri importanti, che citava l'assessore prima, di soggetti da prendere in carico e poi avviare verso una politica attiva richiedono un coinvolgimento anche delle agenzie per il lavoro privato. Il meccanismo sostanzialmente è la regia pubblica, quindi la prima accoglienza del disoccupato avviene esclusivamente presso i centri per l'impiego. Sono partiti di fatto da ieri, i centri per l'impiego a operare su questo. e una volta fatta quindi la prima profilazione dell'utente, poi c'è l'inoltro alle agenzie, prevalentemente alle agenzie private, che svilupperanno le azioni successive, l'accompagnamento al lavoro, un orientamento specialistico, per poi avviarli alle varie politiche attive, tra cui la formazione professionale da programma, una di quelle più importanti, perché anche lì abbiamo un target minimo di utenti da mettere in formazione che sono quasi 4.000 soggetti. Ecco, quindi il processo è partito adesso, da ieri, e quindi i due bandi di cui poi i colleghi parleranno in realtà non sono bandi per le persone, ma sono dei bandi di sistema che ci consenteranno poi di attivare tutte le misure in tempi rapidi. Quindi uno è la selezione dell'agenzia per il lavoro, l'altro è la selezione delle agenzie formative che poi erogheranno la formazione. Quindi ecco questi due bandi, in realtà Goll è già partito, i due bandi che usciranno credo la settimana prossima, comunque entro il mese di luglio, servono per dotarci di tutti gli altri strumenti operativi per poi erogare tutte le azioni previste dal programma Goll. riguardo sociale, in realtà sono anche lì politiche attive rivolte al target dei soggetti più fragili, disabili in particolare, quindi ad esempio ci saranno tirocini di inserimento sociale all'interno di questo programma Goll, è il percorso 4 del programma Goll. Allora, buongiorno, rispetto a quello che ha detto il dottor Terzoni aggiungerei qualche altro elemento che contraddistingue questo programma rispetto ad altre politiche attive, ad esempio quelle finanziate dal Fondo Sociale Europeo. Quindi al di là di questa governance, è una governance complessa che fa perno sulla collaborazione forte fra servizi pubblici e servizi privati. Altri due principi importanti sono la prossimità dei servizi, cioè la vicinanza dei centri e anche di eventuali sportelli dei centri per l'impiego all'utente, quindi l'utente avrà un tot di sportelli attivi dove recarsi per avere la presa in carico. L'altro concetto forte e importante è la personalizzazione degli interventi. non esistono percorsi precodificati, predeterminati. Quando l'utente viene preso in carico dal centro per l'impiego deve svolgere la cosiddetta profilazione che praticamente porta a una classificazione dell'utente di tipo sia quantitativo che qualitativo, cioè ci dice quanto l'utente sulla base delle caratteristiche personali, familiari, di studio, è più o meno vicino al mercato del lavoro. Una volta avuto questo grado di lontananza dal mercato del lavoro, il centro per l'impiego lo classifica e lo incardina in uno dei tre percorsi che sono il work ready, cioè coloro che sono già pronti per essere inseriti nel mercato del lavoro, coloro che sono non tanto distanti dal mercato del lavoro, la cosiddetto percorso upskilling, in cui sarà prevista una formazione breve di contenuto professionalizzante, il terzo percorso è il percorso del reskilling, cioè per coloro che sono più lontani dal mercato del lavoro e hanno bisogno di una formazione di più lunga durata. Questi tre percorsi hanno delle durate complessive diverse, il percorso sono due e sei mesi, nel percorso di questi sei mesi abbiamo dentro tutto il batteria di politiche attive e attivabili, quindi eventuali corsi di formazione, l'orientamento specialistico, anche eventuali tirocini. L'ultimo percorso, quello che ha come utente il disoccupato più lontano, avrà un percorso ovviamente più lungo di 12 mesi. L'altra importante sottolineare è che questo secondo una direttiva che è venuta da ANPAL, che ovviamente è l'organismo che con noi presiede al coordinamento, al monitoraggio del programma, è la libertà di scelta dell'utente, cioè una volta preso in carico l'utente può decidere se continuare il percorso col centro per l'impiego o avvalersi dell'agenzia privata. L'importo mi pare abbiamo detto 3 milioni 4,50 per l'attivazione dei tre percorsi, ovviamente cosa va a remunerare l'importo, i servizi delle agenzie private, perché il centro per l'impiego ovviamente non beneficia di compensi per la sua attività che è istituzionale. Mi sembra di aver detto quasi tutto, poi se avete domande ovviamente sono qui. Sì, buongiorno. Penso che questa sia l'azione più forte nell'ambito della formazione professionale degli ultimi anni della Regione Marche. le risorse che vengono messe in campo e che sono attinenti al PNRR e poi si aggiungeranno le risorse comunitarie rappresentano un'azione a mia memoria ed è diversi anni che sto nella formazione professionale forse unica. Sia perché verranno intercettati un numero di utenti molto elevato, ma anche perché la formazione professionale si inserisce in un percorso integrato insieme alle altre politiche attive del lavoro e soprattutto rappresenta tutto il progetto che stiamo mettendo in campo una riforma strutturale. Questo perché daremo poi continuità a quest'azione che parte dai centri per l'impiego e coinvolge tutto il mondo privato delle agenzie private del lavoro e degli enti di formazione accreditate in un percorso che nasce dal pubblico ma che vede l'ampia partecipazione del privato. Questo perché? Perché i numeri e la qualità delle politiche attive che andremo a mettere in campo necessita la collaborazione di tutti i soggetti che operano nel territorio della regione Marche e soprattutto vorremmo che queste azioni vedessero la più ampia partecipazione del tessuto produttivo e delle imprese. Come sapete vi è necessità di manodopera di competenze professionali sempre più richiesti e queste competenze necessitano di aggiornamenti anche nella tematica green del mondo digitale e quindi questa azione rappresenta una forte opportunità sia per riqualificare chi già si trova nel settore produttivo ma ha perso l'opportunità di lavoro e quindi ha necessità di reinserirsi in impresa sia coloro che appunto sono in una fase di attesa supportati da importanti strumenti di politica passiva ma che tramite questa azione sicuramente avranno l'opportunità di riprendere in mano la possibilità di lavorare. Ecco le agenzie formative che noi andremo ad intercettare dovranno svolgere un ruolo mettendosi insieme e raggruppandosi quindi dare anche una forza operativa alle azioni di formazione che verranno promosse e realizzate su tutto il territorio regionale 12 saranno i raggruppamenti di enti di formazione che andremo a finanziare e ci avvaleremo di un catalogo regionale dell'offerta formativa quanto più completo questo significa che tutti i settori produttivi della nostra realtà regionale potranno essere interessati da questa azione formativa quindi ecco l'appello che lanciamo qua è anche quello di stimolare il tessuto produttivo affinché le esigenze i fabbisogni di formazione professionale possano emergere in modo tale che ci sia l'effettivo incrocio tra domande e offerta di lavoro grazie ti ringrazio Stefano volevo semplicemente sottolineare l'importanza di queste azioni questi bandi e volevo ringraziare te e gli uffici per il lavoro che hanno svolto sicuramente le politiche attive tutte le politiche le azioni messe a disposizione per sostenere una fase così complicata difficile sono e diventano fondamentali stiamo attraversando una fase complicata perché oggettivamente le variabili che incidono negativamente sui mercati sono tantissime e credo che sia fondamentale oggi individuare gli strumenti che possono dare una risposta immediata efficace e anche importante anche dal punto di vista della sostanza credo che le risorse che noi mettiamo in questi bandi rappresentano un numero di risorse assolutamente rilevali se consideriamo che ancora non ci sono la nuova programmazione europea perché la nuova programmazione europea questo mi piace sottolinearlo non è compresa in queste misure quindi veramente è uno sforzo grande che però è necessario per dare il giusto segnale e la giusta vicinanza a chi ha con l'auspicio necessità di risposte a brevissimo tempo speriamo che dal prossimo autunno si potranno soffrire anche delle risorse alla nuova programmazione europea per far sì che potremo implementare queste azioni dunque veramente grazie all'assessore e a tutti i dirigenti i funzionari che hanno lavorato a queste misure perché le riteniamo un asset fondamentale non so se c'è qualche domanda o meno anche da chi è collegato non so se c'è qualche domanda altrimenti consideriamo chiusa la conferenza stampa ha fatto bene il presidente si sono una cosa ha fatto bene il presidente a sottolineare questo perché io prima non l'avevo detto la programmazione nuova dei fondi europei sarà diciamo così possibile metterla in campo dalla fine di quest'anno perché è l'inizio della nuova programmazione quindi se non ci fosse stato questa attività legata a Gol che è un'attività eccezionale legata al PNRR non c'era agli altri anni noi in questo momento saremmo trovati in un cosiddetto buco tra la fine della vecchia programmazione e l'inizio della nuova le regioni in questo momento di grande difficoltà si sarebbero trovati indubbiamente in difficoltà ad affrontare queste tematiche ecco quindi è più che mai providenziale questo tipo di iniziativa questo tipo di attività ci tenevo a ribadirlo anche perché l'ha detto poco fa il presidente ci saranno poi nuove risorse e nuove attività da mettere in campo così come ogni anno la nostra regione e le altre regioni portano avanti legato al nuova programmazione europea questa è una pagina a parte diciamo è una pagina eccezionale è un rafforzativo di queste attività prego sì sono Marina Verdenelli dell'ANSA volevo chiedere questo prima lei ha detto che chi non seguirà il percorso o lo interrompe gli verrà tolto il sussidio faceva riferimento alla disoccupazione al reddito di cittadinanza c'è una allora su questo magari qualche dirigente può essere ancora più preciso perché questa è una fase di definizione questa situazione però la qual è la giusta parola la è il meccanismo di condizionalità condizionalità cioè c'è una condizione per accedere a questo percorso ma soprattutto per portarlo a compimento cioè noi ti accompagniamo al lavoro è chiaro che nel momento che questo accompagnamento arriva al lavoro vero cioè quello che tu cercavi quello per il quale ti abbiamo preparato è chiaro che se tu ancora sei un percettore di reddito di ordinanza a quel punto bisogna che accetti il lavoro ecco è questa la condizionalità però adesso io non sarei così diciamo tranciante come dire si intraprende un percorso oppure oppure ritogliamo tutto il percorso viene intrapreso si vede anche un attimo la particolarità di chi richiede quel lavoro potrebbe anche essere che durante il percorso si capisce che non è magari il percorso dato per lui e che forse occorre cambiarlo quindi c'è una condizionalità che viene valutata passo passo è chiaro che nel momento che il cosiddetto percettore di reddito o di NASPI o di non so quale altro tipo di contribuzione diciamo così o di cassa integrazione non so cosa diciamo così viene accompagnato indirizzato al lavoro che cerca e viene effettivamente portato al luogo di lavoro come assunzione e a quel punto non può rinunciarvi perché se poi vi rinuncia vuol dire che era strumentale il suo percorso attivato quindi c'è una condizionalità in quel caso verrebbe tolto verrebbe limitato verrebbe rivisitato vediamo quali sono i giusti termini anche dettati dal ministero effettivamente però c'è questa condizionalità che finora c'era ma era molto labile no? quando si parlava di reddito di cittadinanza si diceva ma la chiamata deve avvenire per tre volte attraverso i centri per l'impiego se per tre volte lo rifiuti allora lo perdi ma detto brutalmente ma quanto mai un centro per l'impiego ti chiama tre volte è molto difficile che una stessa persona venga chiamata tre volte a ricoprire un lavoro deve essere fortunato se viene chiamata una volta o massimo due ecco diciamo questa condizionalità c'era ma era molto labile stavolta è più marcata anche perché stavolta c'è proprio un percorso personalizzato io arrivo Stefano Guzzi arrivo al centro per l'impiego dice guarda io fino a ieri ho fatto il muratore non ce la faccio più perché mi fa male un ginocchio voglio fare il cuoco ma l'hai mai fatto il cuoco non l'ho mai fatto il cuoco allora te in strado ti faccio fare il corso quello lungo quello che dura un anno diventi un cuoco provetto alla fine torna al centro per l'impiego sei un cuoco certificato allora a quel punto tramite l'agenzia interinale ti inseriamo nel mondo del lavoro il momento che arriva al ristorante che dice certo che lo prendo questo ragazzo mi piace è un bravo cuoco lo voglio a quel punto se non accetti non puoi dire che vuoi mantenere il reddito adesso ho proprio fatto no ho fatto proprio l'esempio plateale se vogliamo ecco però di fatto è questo perché non è solo una chiamata non è che ti chiami all'ufficio del collocamento guarda ti chiamalo al centro per l'impiego dice quel ristorante l'ha bisogno di un cuoco vai a vedere potrebbe anche essere non adatto così via qui proprio sei inserito in un percorso che ti crea ti forma e ti predispone e poi ti inserisce nel mondo del lavoro se poi alla fine non rifiuti non puoi continuare a pretendere lo stesso trattamento diciamo di sostegno che avevi in precedenza quindi la condizionalità è in questo non ha un termine preciso specificato oggi sarà valutato durante il percorso però è fondamentale questo l'abbiamo fortemente pretesa proprio come assessori al lavoro di molte regioni compreso io perché credo che sia una cosa importante da poter inserire in questi percorsi formativi altrimenti si rischia di elargire soldi agenzie interinali a enti accreditati per poi non avere il risultato finale Grazie a tutti